Vediamo alcuni piccoli types and trick sul pflow. Per inserire le azioni possiamo effettuare un drag and drop all'interno del nostro view. Oppure cliccando con il destro in uno spazio vuoto di un evento e o dell'area di lavoro apparirà un menu diviso in categorie dal quale possiamo inserire gli operator o i test di nostro interesse. Questo ci permette di poter eliminare alcune barre che possono risultare un po' invadenti durante la nostra lavorazione. Per conoscere il numero esatto di particles all'interno degli eventi possiamo abilitare il particle count dal menu a discesa option track update. Notiamo che dallo stesso menu possiamo abilitare anche il progress update. Operazione utile in alcuni casi e scomoda quando abbiamo eventi molto complessi. Vi consiglio di non abilitarla se non necessario. Se stiamo lavorando su una workstation un po' datata vi consiglio di abilitare una modalità di aggiornamento molto comoda sia in fase di viewport che di rendering. Sempre dal menu option troviamo la voce update type. Con complete diremo a 3dxmax di aggiornare tutto il pflow in fase di scorrimento sulla timeline. Mentre con forward sarà considerato solo il successivo frame e così via. Dal menu display possiamo disabilitare la descrizione degli elementi e la depot. Vi preannuncio che alcune action ogni tanto non corrispondono a livello visuale di icona alla loro reale funzione. Questo è un bug che 3dxmax si porta dietro da anni. Solo se necessario andrò a disattivare tale UI. La navigazione all'interno dell'event display è molto semplice. Con il tasto centrale si effettua il pan e con la rotella la possibilità di zoomare. Ma l'unico spostamento, ve lo dico per esperienza, alla fine sarà solo lo scorrimento laterale e verticale, quindi con il pan. Grazie.